Perché la vita di Nadia, da partellina, è valutata a 2.136 euro. E' una cosa che non è ammissibile. La vita di una persona valga così poco. Nadia morì alle prime luci dell'alba del 2 gennaio 2017 in un drammatico incidente stradale mentre andava a lavoro in un supermercato. La sua auto finì contro un muro a Porrena di Poppi, in provincia di Arezzo. Purtroppo sono passate anche macchine quella mattina, nel senso che comunque vado a una strada percorsa per andare a lavoro però nessuno quella mattina si è fermato. Cioè purtroppo è una cosa che lascia l'amaro in bocca perché quella mattina Nadia l'ho trovata io. Le INAIL ha riconosciuto il fatto come morte sul lavoro ma il compagno e convivente dal 2011 non spetta la rendita INAIL. Si parla di una reversibilità. Questa reversibilità chiaramente dovrebbe comprendere marito, figli. Io ero un semplice convivente. La vita di Nadia è stata valutata a poco più di 2.000 euro, sia il costo delle onoranze funebri. E' l'unica cosa che viene riconosciuta a Nadia. Jacopo e Nadia nel certificato di Stato civile del comune di Prato Vecchio e Sia figurano come un nucleo familiare ma non avevano ancora regolarizzato la loro unione. C'era un mutuo contestato, c'era un conto bancario contestato, c'era un progetto di vita. Un progetto di vita non soltanto affettivo ma anche economico chiaramente. Sentirsi da parte dello Stato come un perfetto sconosciuto è una cosa che fa male dentro. Ad un anno di distanza da quel drammatico incidente prosegue la battaglia di Jacopo. Purtroppo le scappatoie non ci sono, nel senso che dal punto di vista di reversibilità, dal punto di vista previdenziale, le leggi sono chiare. Ma non è tanto il risarcimento la cosa che è importante perché è vero che conta, cioè la battaglia la porta avanti per questo. Ma più per un fatto di riconoscimento. Considerare le coppie di fatto non semplicemente facendo un atto notarile, portandolo in comune e versandolo lì, ma proprio quando è dimostrabile che questo progetto di vita è stato portato avanti. Basterebbero due righe riportate nella legge Cirinna, semplicemente due righe. Al fianco di Jacopo in questa battaglia anche la CGL di Arezzo. Se io dimostro fattivamente che ho un progetto di vita, come diceva Jacopo, un progetto vero di vita, ho una casa, pago il mutuo insieme alla mia compagna, si paga le tasse, se fa uno stato di famiglia, un certificato di residenza, se appare come per una coppia sposata, a quel punto lì deve avere uguali diritti, se no di cosa parliamo.